Franco Grasso ha teorizzato la sua scienza di revenue management oltre 20 anni fa, divenendo il massimo esperto del settore. Con sintesi e professionalità, apprenderà i fondamenti della scienza di revenue management ideata da Franco Grasso. Noi del Revenue Team siamo il braccio operativo dell'azienda. Più di 40 esperti del settore che lavorano a stretto contatto con le strutture ricettive, utilizzando la nostra esperienza per massimizzare risultati. In questo videocorso capiremo insieme cos'è davvero il revenue management, come lo puoi applicare alla tua realtà e ovviamente ti forniremo trucchi e consigli specifici per la tua struttura. Alla fine del corso saprai fare delle scelte di un revenue, con i nuovi strumenti che avrai a disposizione. Inizierai a conoscere il vasto mondo del revenue management e non ne farai più a meno. Abbiamo già aiutato più di 2500 albergatori a migliorare i propri risultati e questa è la tua occasione per iniziare come e quando vuoi. Più operatori del turismo iniziano ad applicare queste teorie e più la tua struttura, la tua destinazione e in generale tutto il territorio ne gioverà con incredibili risultati. Noi del team di Franco Grasso abbiamo una missione che va oltre la consulenza e la crescita delle singole strutture alberghiere. Abbiamo a cuore le macro e le micro destinazioni nazionali e internazionali, promuovendo i flussi turistici, la visibilità e gli investimenti. Tutto questo e molto altro è l'obiettivo dell'economia revenue teorizzata da Franco Grasso e da oggi saprai anche tu come prendere parte a questo progresso. Dopo tanti corsi di revenue management sei finalmente atterrato su quello definitivo. Scegli di fare revenue. Scegli di farti scegliere. Scegli di farti scegliere.